Il mezzo barcaiolo è un nodo che viene principalmente utilizzato in arrampicata e alpinismo per assicurare tramite uno scorrimento, controllo della corda annodata in un apposito moschettone, solitamente vincolato alla parete, che vengano ridotti gli eventuali traumi di una caduta dello scorrello che sta salendo. Quest'ultimo ovviamente deve essere legato al capo della corda, che viene assicurato tramite il mezzo barcaiolo. La manavra di assicurazione, se correttamente eseguita, garantisce un buon freno al cosiddetto capocordata, ossia che sale per primo e sopra di un potenziale effettivo rischio di caduta. Garantisce altresì un ottimo freno per il cosiddetto secondo di cordata, che in realtà sopra i delimitati rischi di caduta effettiva, perché la corda viene recuperata dall'alto man mano che ne sale. Grazie. 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 Grazie.